Buongiorno a tutti ragazzi, oggi torno un attimino sulla tematica di ieri, che è la macro tematica di discussione sportiva in Italia. Anche se di sport non si parla, si parla semplicemente di rispetto. Mi ha dato anche un po' fastidio, devo dire la verità, fare soltanto la live di ieri come contenuto, perché ieri ho perso le staffe, c'è poco da girarci intorno, dire le cose come non sono, ho perso le staffe, e ho perso le staffe principalmente per i commenti che ho letto durante la diretta. Già ero abbastanza adirato in generale per quello che era la questione, però era una rabbia mia, personale, giustificata, non giustificata, mia. Quello che ho letto successivamente mi ha definitivamente dato il colpo di grazia, quindi credo che non sia il modo migliore di fare un contenuto, credo che sia giusto e necessario anche fare un secondo contenuto riassuntivo, non in diretta, non di confronto, come è stato ieri, per parlare di quella che è una tematica che va affrontata per forza di cose. Però vi chiedo principalmente una cortesia, di lasciare da parte il fatto che Cerbi giochi nell'Inter, che Juan Jesus giochi nel Napoli. Cioè queste cose lasciatele da parte, perché non è questa la discriminante, non è questa la base, non è questo il ragionamento corretto. Togliete le maglie ai calciatori, svestiteli, lasciateli senza nessun tipo di logo, perché non è questo il problema. La sentenza di ieri è assolto a Cerbi, non significa che a Cerbi sia innocente. Come si legge nella sentenza, anzi, addirittura, si pensa che Juan Jesus possa essere addirittura in buona fede. Si pensa che quelle offese possano esserci pure state, non si è raggiunto il grado minimo necessario per andare a punire comunque a Cerbi, e dicono che qualcosa può anche essere successo, anche di discriminatorio, ma non ci sono le prove per testimoniarle. Ecco, la moglie di Cerbi che festeggia col vino e dice sciacquatevi la bocca a haters, è una bella vergogna, è una bella vergogna. Perché non è che c'è scritto che tuo marito è innocente, c'è scritto che non ci sono le prove per. Poi qui si apre un macro dibattito, secondo me che deve essere il macro dibattito, sulle infrastrutture. Perché è inutile, completamente inutile, voler combattere un fenomeno grave come il razzismo negli stadi, facendo la giornata dedicata al razzismo e tutti i messaggi che si vuole, se poi le infrastrutture non sono adatte a combattere questa roba qui. È inutile. E da questo punto di vista ha ragione il Napoli, col comunicato ufficiale. Dobbiamo fare la facciata, dobbiamo far vedere che siamo belli, bravi e buoni, poi quando è ora di agire non abbiamo le immagini. Attenzione, partiamo dal presupposto che magari ha capito male Juan Jesus. Partiamo da quel presupposto lì, magari ha capito male Juan Jesus. Magari Acerbi non ha detto niente. Però posso dirvi che quantomeno sospetto il comportamento di Acerbi in campo è quantomeno sospetto. Perché va lì, gli chiede scusa, c'è un labiale in cui dice non sono rassista, se mi accusi di averti detto qualcosa di rassista non ti chiedo scusa. Sei tu che devi chiedere scusa a me, perché mi stai infangando. Come ti permetti? Stai dicendo che sono un rassista? Stai dicendo che mi stai accusando di essere rassista nei tuoi confronti? Non ti chiedo scusa. Delle tue tu chiedi scusa a me. Mia naturale percezione, mia naturale analisi che mi porta a pensare che effettivamente ad Acerbi qualcosa possa pure essere sfuggito dalla bocca. Tant'è che un Yesus che è stato molto intelligente, molto bravo in quel frangente, lascia correre, gioca la partita, segna, perché il karma esiste, segna il gol nel finale e ai microfoni va a dire ragazzi, in campo succedono delle cose, si dicano delle cose, non dice esattamente sono cose da campo, dice sono cose che rimangono in campo, tra di noi. Mi ha chiesto scusa, tutto a posto. Perché girare le palla a Waiyesus? Perché il giorno dopo Acerbi, che viene convocato dalla Nazionale, torna indietro, è in stazione, non mi ricordo quale, mi sembra Milano Centrale, però potrei sbagliare, c'è il video proprio di Acerbi con le valigie giornistiche che lo inseguono, dice io non ho niente di cui scusarmi, non ho detto niente, Waiyesus avrà capito male. E allora permettetemi, se la sera prima hai chiesto scusa dicendo non sono rassista e l'hai abbracciato, tant'è che il giocatore va anche ai microfoni e cerca tra virgolette di farti un favore di proteggerti, se poi ti rimangi tutto perché questa magari è la nuova linea difensiva che ti è stata data in pasto e io vi dico per me non dall'Inter, per me non dall'Inter, perché l'Inter non credo che sia proprio contenta di tutta questa situazione di quello che si è venuto a creare, penso che sia più una roba legata alla Nazionale perché all'Inter avere Acerbi le ultime dieci partite ragazzi non frega niente, c'è soltanto una squadra che ha necessità di avere Acerbi bello in forma pimpante pronto per questa estate e non è l'Inter, è la stessa squadra a cui appartiene la federazione a cui fa fede anche il procuratore sportivo che non ha trovato le immagini, perché se poi uno vuole essere bastardo e vuole cercare di fare il complotto e guardare oltre, può leggere semplicemente una mossa politica di omertà dove si è scelto di non decidere, perché c'erano due fuochi, quindi diamo ragione a questo fuoco perché non abbiamo trovato le immagini, come facciamo senza le immagini? E allora vi dico il comportamento di Acerbi secondo me, secondo me, mia lettura è abbastanza sospetto per una persona che ha completamente la coscienza pulita, perché non si reagisce in quel modo e non si reagirebbe in quel modo di fronte a una roba di questo tipo, cambiando poi versione il giorno dopo, ci sta che poi con Gesù girano anche le palle, per quanto mi riguarda, sempre per quanto mi riguarda. Poi entriamo nel merito, perché vi dico, per me la grossa responsabilità ce le hanno le infrastrutture, i club, quando l'anno scorso in occasione di Juventus Inter, Coppa Italia, quei 200, 170 quanti erano, non lo so, in curva, coglioni, perché non c'è un altro modo di scrivere, sono coglioni, a me frega niente che ti fino Juventus, sono coglioni, perché qui non si deve guardare il colore della maglia, dobbiamo svestirci nei nostri colori, quando suonano quelle cose sono dei coglioni, la Juventus ha un'infrastruttura all'avanguardia, ha delle telecamere, li ha identificati, li ha presi, li ha da spati, non ne entrano più, questi non possano più entrare allo stadio, e sono tifosi, neanche protagonisti, sono tifosi, nemmeno protagonisti. Voi volete farmi credere che in tutto San Siro non ci fosse nemmeno una telecamera pronta ad escrivere quella roba lì, pronta a immortalare quel momento lì? Attenzione, stiamo parlando di una sentenza in cui si assolve a Cervi, ripeto, non perché è innocente, ma perché non c'è il filmato che va a testimoniare che effettivamente ci sia stato questo insulto, ma nella stessa sentenza c'è scritto pure che Juan Jesus è in buona fede, e che sicuramente ci sono state delle offese, magari anche razziali, ma che non sono in grado di dimostrarlo. E allora io, in maniera anche stupida, vi domando, ma ragazzi, e allora il filmato delle offese, magari anche non razziali, dov'è? Perché qui si sta ragionando sul fatto che a Cervi non verrà squalificato, e che è stato assolto, che non significa che non abbia detto quelle robe, però manca anche il filmato, in cui i due si parlano e magari si dicono, oh ciao, buonasera, buongiorno, quanto sei bello Juan Jesus, manca anche quel filmato lì. Ora il problema più grande è che in Italia non abbiamo le infrastrutture adeguate per cercare di punire eventuali potenziali, ipotetici episodi a stampo razziale. Perché non è possibile che abbiamo una telecamera su qualsiasi tesserato che addirittura anni fa Stramaccioni e Cassano si sono dovuti inventare la mano davanti alla bocca per parlare, per non essere ripresi, perché se no striscia la notizia, riprendeva, riportava, faceva vedere, diventava un meme Cassano. Ci sono le telecamere appertutto, tranne i suoi giocatori in campo, cioè giustamente ci sono sugli spalti per monitorare i tifosi e lì purtroppo, mi tocca dirlo, quando l'anno scorso a Bergamo Avraovic è stato dato dello Z, non ci sono state delle daspo ai tifosi dell'Atalanta, non ci sono state. Non lo so se con l'Udinese, nella sfida tra l'Udinese e Milan con Magnan ci sono stati dei daspo. Non lo so, io non li ho letti, sono sincero, non li ho letti. Però allora vuol dire che abbiamo delle infrastrutture non all'avanguardia, non in grado di punire o di fornire materiale che possa confermare o smentire questa roba. Perché qui abbiamo una sentenza in cui non c'è scritto colpevole innocente, c'è scritto magari è pure successo, guarda io ti credo, però non lo abbiamo filmati. Non significa che Acerbi sia innocente. Questo è il messaggio che deve passare e che deve diventare forte e chiaro. Perché allora si apre un precedente che non significa che si doveva punire Acerbi senza prove, intendiamoci, stiamo cercando di fare un ragionamento macro su una tematica importante che purtroppo si riflette anche nel calcio, nello sport. Però qua si apre un precedente importante. Allora io posso andare da un giocatore di colore con la mano davanti alla bocca e dirgli qualcosa di offensivo. anche di razzista. Tanto poi non c'è l'immagine che prova che io l'abbia detto, no? Quindi io se oggi voglio fare il razzista posso farlo. L'importante è che non ci sia l'immagine che possa colpevolezzarmi. Questo è il punto. Poi qua si apre un discorso relativo alla giustizia sportiva che ragazzi fa qua da tutte le parti, non lo scopriamo oggi. L'anno scorso sentivamo che doveva essere celere anche a costo di quelle che erano le certezze. L'importante era la velocità, della giustizia sportiva. Non l'efficacia, la velocità, bisogna muoversi. Antonio Conte è stato squalificato perché un suo ex giocatore l'aveva accusato, un certo Pippo, un certo Pippo Carrobbio, l'aveva accusato di sapere sulle scommesse e quindi Conte non poteva non sapere, doveva portare lui le prove per dimostrarsi innocente. Ragazzi la giustizia sportiva è un schifo. Cioè partendo da questo presupposto che quando parliamo di giustizia sportiva dobbiamo ammettere le virgolette nella parola giustizia. Perché di giustizia non c'è niente. Non c'è niente. Questa è la roba che mi fa imbestialire. Questa sentenza è una sentenza che tu la leggi e ti fai una grossa risata. Perché dici se fosse successo in terza categoria due giocatori che si guardano in mezzo al campo, magari con nessuno intorno perché si prendono a tu per tu, uno dice a un altro sei un? Oh immagini non ce ne sono, testimoni neanche perché sono lontani. Magari questo si arrabbia, giustamente. Cosa fai? Non lo squalifichi? Cioè perché poi bisogna anche arrivarci a questo punto qua, capire che queste robe sono gravi. Juan Jesus non avrebbe avuto nessun tipo di interesse ad inventarsi quella roba, tant'è che Juan Jesus non fa nemmeno la scenata. Non fa nemmeno la scenata. Va in microfoni, sgonfia tutto. Perché? Perché vuole essere intelligente. E invece ieri impariamo una morale che se accadranno ancora in futuro queste robe qui bisogna fare un casino. Io il giocatore chiedo ai miei compagni di andare nel tunnel, come ha fatto Magnan, ma col cavolo che poi torno dentro. Non ci torno dentro in campo a giocare la partita. Non ci torno. Perché se tanto poi so che le punizioni non arriveranno perché non c'è l'immagine, perché non abbiamo capito chi è il tifoso che ha detto questo, perché il giocatore magari ha i capito male te. Allora io torno dentro, la partita non la gioco. Non la gioco più. Non la gioco più. Perché viene anche poi difficile pensare che Juan Jesus si possa essere inventato tutto. Perché per inventarsi tutto doveva avere un secondo fine magari. Interrompere la partita, farla saltare, robe del genere. Invece poi si è continuato tranquillamente a giocare fino alla fine quando Juan Jesus ai microfoni da zone dice Cervi, un bravo ragazzo. In campo gli sarà volata, poi mi ha chiesto scusa, dai passiamoci sopra. Per forza poi gli dà fastidio il giorno dopo che la versione sia cambiata, ritrattata, modificata, per arrivare poi a una conclusione che racconta che a Cervi farà zero, numero zero giornata di squalifica. Perché qui si sta parlando di una tematica importante come il razzismo e le persone ragionano in funzione dei colori della propria squadra. E ribadisco che qui secondo me anche l'Inter non è che sia proprio contentissima. E mi rivolgo a chi vede nell'Inter, ah vedi è stato Marotta, è stata l'Inter, è stato qui il potere, quella. Ragazzi c'è una squadra sola che ha interesse nella vera Cervi bello in forma, che possa continuare a giocare queste partite per essere pronto tra due mesi, bello pimpante, al centro della difesa. Ne ribadisco, non è l'Inter. Fatemi sapere un po' le vostre considerazioni qui sotto nei commenti. Perdonatemi se sono tornato sulla tematica, però volevo cercare di riassumere un pochino tutto insieme quello che si è letto ieri, che si è letto ieri e che nella rabbia, perché ieri ero molto arrabbiato per quello che leggevo in chat, non sono riuscito pienamente a condividere con voi. Ciao!